Pronti per questa ripresa del campionato, per questa gara così importante, occhiali scaramantici carichi e in attesa di dare il loro contributo come sempre, maglia di Lukaku sempre appesa, si gioca tanto l'Inter questa sera a San Siro contro l'Atalanta, la squadra che anche Conte ha messo a essere la squadra più in forma del campionato 10 gol nelle ultime due partite, il miglior attacco del campionato, ma novità molto importanti di calciomercato con l'Inter a un passo da obiettivi importanti, Marotta scatenato, ne parleremo tra poco, prima però l'attualità con le ultime da Appiano Gentile in vista della gara di questa sera Una partita che sarà un test molto importante per misurare la crescita della squadra di Conte, come ha detto il tecnico in conferenza stampa, è partita molto intensa, fisica, con l'Inter che dovrà cercare di limitare il miglior attacco del campionato 10 gol nelle ultime due partite, ultime di formazione con anche il sottoscritto in dubbio per 38 di febbre, ma vedremo di stringere i denti, di essere comunque presenti a San Siro Dalle ore 16.30 fuori dal cancello 6, quindi se passate di lì venite a fare un saluto, febbre permettendo un Inter che dovrà dare una risposta, cercare di mettere pressione alla Juventus che giocherà domani sera a Roma in casa giallorossa Per provare a vincere anche quel titolo dei campioni d'inverno che nel 76% dei casi poi porta alla vittoria finale, anche se Conte ha detto che non conta nulla, è una valenza molto relativa, i conti si fanno alla fine e solo poi si vede la forza reale di una squadra avvicinandosi poi al traguardo Perché quello che conta è tagliare per primi il traguardo, Conte che non ha voluto neanche rispondere alle critiche, insomma tornare sulle polemiche con Capello, su quest'Inter che secondo qualcuno gioca in contropiede Una interpretazione direi abbastanza molto libera, non ci sembra per niente, anzi un Inter che fa tanto possesso palla e poi cerca subito la verticalizzazione di far male agli avversari Non mi sembra che questo possa essere contropiede, però a parte queste critiche assenza pesante di Milan Skriniar per la prima volta in questa stagione Conte dovrà fare a meno di lui proprio contro il miglior attacco del campionato Ritorna Godin e per lui sarà una prova veramente del 9 perché contro i veloci attaccanti dell'Atalanta a difesa dell'Inter sarà messa in serie a difficoltà Devrai e Bastoni a completare la retroguardia davanti ad Andanovic e saranno fondamentali le diagonali difensive e gli aiuti che potranno dare gli esterni Quindi Candreva a destra e Biraghi a sinistra per aiutare i difensori e la squadra ad avere la meglio dell'Atalanta Poi diciamo una grossa mano l'Inter spera di averla dal pubblico, da quei 70.000 spettatori che anche questa sera saranno a San Siro per stare vicini all'Inter In questa sfida per il titolo di campioni d'inverno senza dimenticare la Lazio che con il Napoli avrà un'altra sfida importante E non bisogna però mai dimenticare anche che potrebbe essere la sorpresa lì molto vicina, giocando bene la squadra di Inzaghi non deve essere sottovalutata Per quanto riguarda il mercato Conte ha detto che è un periodo molto complicato soprattutto per lui perché ci sono trattative ogni giorno sui giornali di giocatori che possono arrivare, di giocatori che possono partire Però sta per finire, siamo già scollinati diciamo, ci avviciniamo verso la fine del calciomercato Ma soprattutto Conte si aspetta di avere quei rinforzi che ha chiesto e che stanno arrivando 3-5-2, l'abbiamo detto, con in mezzo al campo tornerà dal primo minuto Sensi Manca anche Barella, la sua dinamicità, la sua forza fisica sarebbe stata fondamentale È una gara che sarà una battaglia con Sensi, Brozovic e Gagliardini Vecino è rimasto ad appiano gentile, a differenza di Asamoah che ancora ha problemi Nonostante si alleni con i compagni, Conte continua a non convocarlo Un unico dubbio Sensi Borcavalero, però il terzetto dovrebbe essere formato con Gagliardini, Brozovic e il centrocampista di Urbino Lì in mezzo, Lukaku lautaro naturalmente la coppia d'attacco per cercare di averla meglio sull'Atalanta di Gasperini Dicevamo, novità importanti di mercato in arrivo perché al di là delle parole di Soeskier Che ha detto che il capitano dello United, Ashley Young, non partirà Poi non è stato convocato per la gara contro il Norwich e quindi si aprono naturalmente interpretazioni di calcio mercato Col giocatore che potrebbe essere a Milano già a metà della prossima settimana dopo la gara di Coppa Italia contro il Cagliari Differenza minima anche sull'indennizzo di poco conto previsto per lo United per un giocatore di 34-35 anni che andrà in scadenza a giugno Quindi Young ormai ha un passo così come Giroud perché il Chelsea ha abbassato le sue pretese dopo l'incontro con i suoi procuratori Che stanno facendo anche da mediatori nella trattativa con i Blues Da 10 la richiesta del Chelsea è scesa a 5 più 1 di bonus L'Inter ha offerto 4 più 1, solo un milione di distanza E quindi possiamo dare a un passo anche questa trattativa Che dimostra che con un vice Lukaku come ha chiesto Giocatore che Conte conosce e ha avuto ai tempi del Chelsea Il sostituto anche lì fu anche lì il sostituto di Dzeko dopo il rifiuto del Bosniaco Dimostra questa trattativa vicina alla conclusione che Politano in partenza Col Milan si è parlato di questo scambio di prestiti con Chessi Carta che Marotta si tiene in tasca nel caso in cui fallissero gli obiettivi più importanti a centrocampo O comunque l'Inter non scende dalla sua richiesta di 25-30 milioni Che finanzieranno poi gli acquisti L'acquisto del giocatore più importante, del colpo più importante che sarà fatto a centrocampo E qui si attendono sviluppi soprattutto da Barcellona Dove è in bilico la posizione di Valverde Come vi avevamo detto Diciamo il CEO del Barcellona ha incontrato in segreto Xavi in Catarra Per convincerlo a lasciare subito e a diventare Fin da nell'immediato l'allenatore del Barcellona Potrebbe però la trattativa essere rinviata alla prossima estate Questa sembra al momento la soluzione più probabile E con la permanenza di Valverde però depotenziato Che non può bloccare la cessione di Vidal Vi avevamo detto che possono essere possibilità per la partenza del Cileno Se Valverde dovesse invece essere esonerato con Xavi Potrebbe convincere Vidal a rimanere Ma è tutto da verificare Come ha messo anche Marotta nella tarda serata di ieri Ha detto non so quello che potrà accadere a Barcellona Con un eventuale cambio di allenatore Inter in attesa Novità che arriveranno la prossima settimana Vidal ha chiesto del tempo per capire cosa succede E vedere appunto cosa accadrà sulla panchina del Barcellona Con Messi e il presidente Bartomeu Che continuano il loro pressing per convincerlo a restare Però l'Inter intanto si sta muovendo E in modo veramente netto e deciso Sul fronte Eriksen Agente a Milano Sarà a San Siro a vedere la partita Farà un punto della situazione con la dirigenza dell'Inter E poi andrà dal giocatore con la proposta Nerazzurra E si attende una risposta tra lunedì e martedì Del giocatore danese Inter che mette sul piatto 20 milioni per il Tottenham Per averlo subito Un ingaggio da 10 più bonus Come abbiamo detto Molto simile a quello di Conte Per assicurarsi un top player Vero e finito Che potrebbe anche arrivare subito Sarà anche al giocatore Fare la sua decisione con il Tottenham Abbiamo detto Ci può essere questo scambio Con Vecino Che piace a Mourinho Che deve fare a meno anche di Sissoko Oltre a Kane Due pesanti tegole per lo specialone Che sicuramente non ha iniziato In modo fortunato La sua avventura con il Tottenham Tutte questioni da vedere e verificare Everton di Ancelotti Che ha fatto un'offerta per Vecino Che per ora l'ha rifiutata Così come Gagliardini Non ha preso in considerazione la proposta del West Ham Gabigol L'ha atteso in Italia Per fare un punto della situazione Con il Flamengo Che ha alzato A 3 milioni e mezzo La sua offerta di ingaggio Per l'eroe Dell'ultima Coppa Libertadores E quindi Ci sono possibilità in più Per arrivare Ad un accordo Con Il club Di Rio de Janeiro Che dovrà però alzare a 20 L'offerta all'Inter Tutti poi fondi che verranno indirizzati Sul fronte Vidal O Eriksen O entrambi Insomma Se ci fosse anche un'uscita Potrebbero come vi dicevamo ieri Arrivare Tutte e due Per dare a Conte Veramente in mano Dei colpi importanti Per lottare fino alla fine Per lo scudetto Un Inter però Che si sta Muovendo con decisione Sul mercato Non capisco quelli Che Continuano a scrivere A criticare Una società Che nell'ultima Sessione di mercato Ha speso più di tutti 150 milioni Lentezza Ma Che Non è così Oculatezza E comunque Bravura Anche per cercare Di spuntarla Offerte migliori Poi Se mi venite A fare l'esempio Della trattativa Non chiusa Per GECO Alla fine Come vi ho detto Tutto di guadagnato Perché Dalla mancata Arrivo di GECO L'Inter Ha avuto Il premio Diciamo Dell'esplosione Di Lautaro Martínez Che al momento È il giocatore Che vale di più In tutta la serie A E Cosa che con GECO Che nelle idee di Conte Sarebbe Stato titolare Al fianco di Lukaku Forse Non sarebbe stato E quindi Meglio così E fiducia massima Alla dirigenza Nera azzurra Amarotta Per come si stanno muovendo Vedete con Yang Giroud E anche Adesso Un colpo importante A centrocampo La squadra Può veramente Completarsi E essere ancora Più forte Andiamo a leggere i giornali Cominciamo Dal Corriere Dello Sport Tiro alla fune In prima pagina Questa sfida Tra Conte Con Gasperini E Naturalmente Sarri Sullo sfondo Fonseca E Simone Inzaghi Che tirano Questa fune Ibra Dal primo minuto Il mea cerca la svolta Inter Giroud Cosa troppo Vidal Si complica Un Corriere Dello Sport Che possiamo dire Non è sul pezzo In quanto Poi Andiamo all'interno Dopo L'attacco al potere In cui viene analizzata Questa volata Per Il titolo Di campione D'inverno Si parla di mercato Se Lazio Atalanta e Roma Battono Napoli Inter e Juve La classifica diventa Pazzesca Con 5 squadre In 9 punti Stagione entusiasmante Grazie ai tecnici Dalle idee chiare Ma pesa La delusione Partenopea Poi campione D'inverno Quasi Una garanzia L'intervista Di gennaio Inter e Napoli Rischiano Lazio Impressionante Attesa Inter Vi dà il difficile Giallo Eriksen Stasera c'è Atalanta Ma intanto Il club è al lavoro Sugli obiettivi di mercato Il Barça Si concentra sul tecnico Anche il cileno Legato alla scelta Smentiti i contatti Con il danese Ma Conte aspetta Il rinforzo La prossima settimana Si decide Yang Giroud Frenate Nerazzurre Per l'Inter Segnali poco Incoraggianti Dalla Premier Però Diciamo Corriere dello Sport Non Aggiornato Con la mancata Convocazione Di Yang Per la partita Con il Norwich Infatti Viene scritto Oggi lo United Giocherà E vedremo Se Yang Sarà in panchina In campo Tra i titolari O solo in tribuna E poi Anche Sulla richiesta Del Cessi Di 10 milioni Di euro Che però È scesa A 6 5 più 1 Di bonus Con L'attaccante Che si avvicina Quindi Un Corriere Non Aggiornato In attesa Di capire Si tornerà D'attualità La candidatura Di De Paul L'altro nome Caldo È quello Di Eriksen Il suo agente Schotz È segnalato In arrivo a Milano L'abbiamo già detto Arrivato È sbarcato In città Già ieri Si chiede Il Corriere Le voci In tal senso Ci sono Ma in via Dalla liberazione Negano sia Il viaggio Del procuratore Sia un incontro Con lui Nei prossimi giorni Cosa che però Era stata fatta anche Con i procuratori Lautaro Martínez Che avevano fatto vedere Essere a Milano La linea nell'azzurra È sempre la stessa Eriksen Un'operazione Complicatissima Da concludere La prossima estate Quando sarà Parametro zero E avrà così Esorbitanti Costi di ingaggio E commissioni Adesso guadagna 5 netti E ne chiede il doppio Più le commissioni Mentre è quasi impossibile Per la finestra Di gennaio Quel quasi Lascia un minimo La porta aperta Perché il Tottenham Lo venderebbe volentieri subito Ma il calciatore È attratto Dalla prospettiva Di andare nella Liga Il reale forte sul danese Per giugno Offerta però importante Quella dell'Inter Abbiamo detto 10 più bonus Conte titolo d'inverno Conta solo quello finale La mia Inter ha equilibrio Ma non è solo difesa Ognuno Però può pensarla Come meglio crede Il tecnico Nero-azzurro Carica i suoi Non si parla mai Del nostro attacco Eppure siamo solo A un gol Dalla Lazio Meazza pieno Oltre 70.000 Spettatori Poi Niente turnover Vecino in dubbio Chance Godin 3-5-2 Con quello che vi abbiamo detto Con Sensi Brozovic In mezzo al campo Candreva e Biraghi Sugli esterni Poi scelte obbligate Un po' Dappertutto Mentre 3-4 1-2 Per l'Atalanta Con Gollini in porta Toloi Jim City E Palomino In difesa Castagne Deron Pasalic E Gosens A centrocampo Poi il Papu Gomez Dietro Ilicic E Zapata Che torna anche lui Per bloccare L'Inter Chance Per Godin Scontata La composizione Dell'attacco Con Lukaku E Martinez In difesa Torna a giocare Dal primo Godin Che nelle ultime tre gare Per scelta tecnica Ha scivolato In panchina L'uruguayano Non è contento Della situazione Ma dal suo entourage Fanno sapere Che non pensa Un addio in inverno All'Inter Che anche In virtù del ricco Contrattano da quel triennale Da 5-2 milioni netti Più bonus Se ne riparlerà Eventualmente La prossima estate Con novità Quindi non previste Per il core sport Poi Duvane pronto E sfida Lukaku Martedì hanno organizzato Un test per lui E ha segnato Zapata dall'inizio Per battere Romelu Mettersi alle spalle Gli infortuni E spingere L'Atalanta Poi scherza Gasperini Posso dirlo Dell'Inter temo Il contropiede E vedremo Se può Continuare a scherzare Anche Questa sera Passiamo All Alla gazzetta Dello sport In edicola Naturalmente Però prima Dai Apriamo il Corriere della Sera Sfida tra maestri Conte E Gasperini Puntano da sempre Sulla difesa 3 Oggi in A Sono 9 Le squadre a usarla E poi Icardi Il futuro E con il Paris Saint Germain Ok A riscatto Da 70 milioni Questa è la novità Secondo L'Equipe Uscita Nella serata di ieri L'ex capitano Mauri Carli Difficilmente Rientrerà all'Inter Secondo il quotidiano francese L'Equipe L'attaccante argentino Che fin qui Ha già segnato 17 gol In 19 partite Sarà riscattato A fine stagione Dal Paris Saint Germain Per 70 milioni Icardi Si imposta Suon di gol E nel contratto Secondo l'Equipe Non ci sarebbe Nessuna clausola Che consenta Al giocatore Di rifiutare Il riscatto Anche se la sua volontà Peserà Leonardo Lo stima molto E vuole Trattenerlo E poi Andiamo quindi All'analisi Della sfida Di questa sera Con Conte Che dovrà cercare Di bloccare L'attacco Il miglior attacco Il campionato Di Gasperini Due maestri italiani Che si Affrontano Due diverse Idee Di difesa A tre Conte Contro Gasperini Inter e Atalanta Si guardano nello specchio E vedono un riflesso Se non uguale Molto simile Antonio Conte E Giampiero Gasperini Sono decisamente I maestri Della difesa a tre Tornata di gran moda In Serie A Dove in totale Sono nove le squadre A utilizzare quel modulo A torto Alcuni lo ritengono Difensivista I numeri Smentiscono la tesi L'Atalanta Il miglior attacco Con 48 gol L'Inter La miglior difesa Ma la formazione Di Conte Eppure la terza A aver segnato Di più 39 Appena una rete In meno Della Lazio A 40 Gasperini ci crede L'occasione Per capire Il nostro valore Si parla Anche Di mercato Con Eriksen Alla stretta finale Per il Corsera La gente A Milano L'Inter Spinge Per il giocatore Del Tottenham Fra blitz E ostacoli Improvvisi Entra nel vivo Il mercato dell'Inter Il procuratore Di Eriksen Schott È sbarcata a Milano Nonostante le smentite Ha già avuto i primi abboccamenti Col management Nerazzurro Il club di Suning Fa sul serio Per la stella del Tottenham In scadenza di contratto Sicuramente per giugno Se possibile Per l'immediato La gente Del danese Riferirà Della proposta Al club londinese Del resto La pista alternativa Che conduce a Vidal Si è complicata Dopo la sconfitta Del Barcellona Nella Supercoppa di Spagna In bilico La posizione di Valverde Non è pessimistico Pensare che Vidal Possa prendere tempo In attesa Che chiarisca La situazione in Catalogna Segnali interlocutori Arrivano da Londra Per Giroud È vero che Lampard Apre la cessione Può andare via Anche senza sostituto Ma sottolineando Che il club Dovrà essere soddisfatto Ieri le parti Si sono avvicinate Tra le richieste del Chelsea L'offerta nera azzurra Balla un solo milione Da Manchester Il Teggio Solskjaer È prudente Sulla partenza di Young Che però Come vi ho detto Non è stato poi Neanche convocato Per la gara con il Norwich A dimostrazione di novità Importanti Di calcio mercato In arrivo Andiamo alla Gazzetta dello Sport Che naturalmente Parla di questa sfida Di stasera Tra Inter e Atalanta Gasperini Contro Conte Conte dal dentista Bella vignetta In prima pagina Il super derby Nero azzurro Tra l'Inter e il titolo D'inverno c'è Gasper La super coppia Lukaku Lautaro Contro l'Atalanta Gol Machine Due modi di difendere a tre La grande carica Dei 70.000 E la bellezza Del nostro calcio Una sfida Che pesa tantissimo E qui Le parole di Guardiola Che aveva detto Prima della sfida Di Champions Andare Sfidare l'Atalanta È come andare Dal dentista C'è da soffrire Poi Ericsson Vuole 10 milioni Che pressing Giroud Vicino Gazzetta quindi In linea Con quello che vi dicevamo A differenza solo Il Corriere dello Sport Super sfida Nera azzurra Inter L'avversaria più scomoda Per brindare al titolo D'inverno L'Atalanta Sogna da grande Uguali Eppure così diverse Stessi colori Stesso modulo difensivo E persino Stesso stadio Per qualche partita In Champions League Così la preparano Conte E Gasperini Quella Lula Intoccabile La variabile Senza 9 Una linea 3 Due modi diversi Di interpretarla Antonio e Gaspi Il loro calcio in pullman Già 20 anni fa Metodo Gaspi In 3 anni Per Antonio 6 mesi Una prova scudetto Un passo d'Europa E poi la carica Dei 70.000 In uno stadio Che è stato anche Dell'Atalanta In Champions Conte Spero di avere pazienza Per un Inter Top Noi Campioni d'inverno Conta che In testa alla fine Arrivi E tagli per primo Il traguardo Il gioco Altri problemi Da risolvere Gasper Atalanta Vediamo chi siamo In gara secca Noi da Europa E Inter da titolo Conta grandi meriti Dobbiamo stare attenti Alla loro forza D'urto E poi il mercato Centrocampo Pressing su Eriksen Lui chiede 10 milioni Vidal in attesa Si tratta per gennaio Con il Tottenham Con l'agente Scambiopolitano Che sì Manca il sì Dei rossoneri Che però stanno lavorando Anche su Duncan Che potrebbe essere Il sostituto Di che sì Poi difesa Qui Aggiornata La gazzetta dello sport Yang ha un passo Non convocato Il sì In settimane E poi il Chelsea Abbassa le pretese Giroud Verso la chiusura Come abbiamo detto A differenza di altri giornali Scusate E poi si parla anche Della situazione Del Barcellona Nelle pagine Di calcio internazionale Con Ibra Che tornerà Titolare Ma poi Commesso Che apre All'accessione Di chiesa Che per un'offerta Congroa In estate Verrà venduto E qui Si scatenerà Una bella altra sfida Di mercato Tra Inter e Juventus Barca si cambia L'interrogativo Della gazzetta Valverde trema Si scalda Xavi La leggenda Verso il Camp Nou Grau e Abidal Cio EDS Blaugrana Volano a Doha Per incontrare in segreto Il grande ex Ma il blitz Viene scoperto Si decide lunedì C'è piena fiducia Nel mister Noi dobbiamo solo Rimanere uniti Le parole di Messi Però Vedremo Che novità ci saranno E da questo Dipenderà anche Il futuro Di Vidal Chiudiamo Con Tutto Sport Che in prima pagina Parla appunto Della grande sfida Per Chiesa Con le parole Di commisso Che apre A un'accessione In estate Del talento In maglia viola Con Conte Che L'abbiamo già detto Vuole trasformarlo In un esterno A tutta fascia Via libera Via libera di commisso Rocco Vorrei che Federico Restasse Ma se vuole Andarsene Inter e Juve Vanno in chiesa Il titolo principale Di tutto sport Per la prima volta Il presidente della Fiorentina Apre all'accessione Del talento Viola Le due regine del campionato Si contendono Il titolo d'inverno Si sfidano Tutto campo Anche per lui E per Tonali Poi Eriksen Per Conte Marotta Accelera Commisso Dal via libera Per l'attaccante Può lasciare Firenze Costa 70 milioni In bianconero Si aggiungerebbe Adelic Demiral Kuluseschi E Romero Con l'Inter Che però sicuramente Darà battaglia Sul mercato L'altra grande sfida Sempre più calda In palio Tonali Celino lo lascerà partire Prima dell'estate La corsa Juve-Inter È già iniziata E occhio anche a Eriksen Su cui rimane anche la Juve Molto attenta Per l'estate Con l'Inter Invece che Cerca di convincere Subito Il danese A cambiare Maglia Raggiungendo Milano Immediatamente Crocevia da Scudetto Inter Non fermarti Conte L'Atalanta La squadra Più in forma del campionato Dobbiamo dare un segnale E superare noi stessi Rispondendo a Capello Ognuno vede il calcio Come vuole Abbiamo già tanti problemi L'ultimo è dare ascolto Ad altri Volevo portare Ibra al Chelsea Il racconto ieri In conferenza stampa Di Antonio Conte Che ha spiegato Come avesse cercato Di convincerlo Quando però Era ancora In riabilitazione Dopo l'infortunio Al ginocchio Facendo il bentornato A Ibra Nel nostro campionato Senza Scrinier C'è Godin Sen si torna Titolare Poi Zapata Attenta Gasperini Con Mediaset Alle 13 E poi Tgcom Dalle 16 E 45 Alle 19 E 30 Per le ultime novità Di formazione Sulla nostra app Tutte le novità Di giornata Ancora grazie Per il vostro seguito I vostri like I vostri commenti Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Siamo mai vicinissimi Al traguardo 20.000 iscritti Per fare la nostra Prima live Insieme Poi naturalmente Sempre sintonizzati Perché è un momento Veramente cruciale Mercato Ma soprattutto Atalanta